Ma chi ha ucciso Spelacchio? Mi interesso io come fiorista, come fioraio, come dire competente nella materia. Questo è italiano, non è manco dei paesi freddi, questo ce l'abbiamo in Italia. Non bisogna nemmeno andare fuori a comprare l'albero, è un abete questo, non è spennacchiato. Ovviamente se veniva messo magari in un recipiente con l'acqua, con un po' di comfort, che l'albero non si abbassavano le penne così, perché l'albero ha la malacura delle cose, l'assassino è il fare le cose pubbliche che non interessa a nessuno.